Ma va, che non sei niente! C'è solo chiacchierà di su di! Mani in alto, questo è... di Boss! Ragazzi aiutatemi, vi prego! Che succede, Boss? Abbiamo un'ora, soltanto un'ora! Per fare cosa? Ho fatto una cosa terribile! Avanti parla, Boss! No, abbiamo troppo poco tempo! Non dobbiamo perdere un secondo, ok? E se magari parli? Eh, giusto, sto parlando troppo! E lo sapete che quando sono agitato mi prende la parlantina! Quindi? Quindi, quindi! Tu la fai facile a dire quindi, ambe! Boss, mi stai nervosendo! Ah, tu! Tu sei nervoso! Non parlarmi in questo modo, hai capito, Cilli? Basta, Boss! Ok, allora inizio dal principio! Dunque! Ma è terribile! Mancano 30 minuti, Boss! Forza, tutti in macchina! Ma no, guarda che traffico! È l'ora di punta! L'idea, la moto! Ma siamo in tre! O il sidecar, lì entriamo tutti a tre! Ma è vecchio come il cucù! Si dice cucco! Allora mi sono compreso una sveglia! Questo sidecar non mi ha mai lasciato a piedi! È un cavallo di razza! Ok, saliamo! Wow! Perete di farti? Sìììì! Ce la faremo, Boss! Beh, che succede? Non arriveremo mai! Quanto manca? Sette minuti! Taxi! Siovero! Siovero! Che camma proprio oggi questo show? Il 21, Boss! Sta passando il 21! Prendiamo! Boss, è troppo pieno! Non riesco a salire! Spingi! Spingi! A me spingi! Ehi, ehi! Non respiro! E poi cos'è questa cosa che spinge qua dietro? Ups! Ma non è il porto ombrello questo? No, è il mio culo! Che sbadata! E non venirei accorta! Quanto manca, ragazzi? No! 3, 2, 1! Ma, 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 ma! Guardate fuori che d'artificio! Guardate! Una scredita! Che bella! Checca! Vorrei che tu saresti mia! Boss! Povera checca! Con questa signora! Tu sa parlare! Non dite niente! Non dite niente! Ci ho provato a correggerlo! Maledetti congentini! Non dite niente!